156 nuovi positivi nelle ultime 24 ore in Calabria con 1787 tamponi effettuati, rapporto sceso all'8,7%, 12 purtroppo i decessi che portano la cifra totale da inizio pandemia a 950, 475 sono gli attualmente ricoverati nei reparti covid, 44 in terapia intensiva ancora in difficoltà il Cosentino e sulle criticità della sanità intervenuto il capogruppo di Forza Italia, la Camera dei deputati Roberto Chiuto, gli ospedali soprattutto quelli della provincia di Cosenza sono stati quasi ovunque trasformati in covid hospital, il risultato aggiunto è che ai calabresi non vengono garantiti i servizi sanitari essenziali, è una cosa inaccettabile. Nel corso della seduta del Consiglio regionale più che la curiosità sul piano nazionale di ripresa e resilienza da gran parte dei consiglieri regionali è stata espressa la necessità di conoscere le misure che la regione sta attuando per fronteggiare l'emergenza sanitaria in atto. Un suggerimento venuto ad avvio di seduta dal Consigliere Graziano di Natale con una mozione subito condiviso dai colleghi di minoranza Giuseppe Aieta e Domenico Bevacqua ma ancora di più sottolineato da Domenico Tallini che dai banchi della maggioranza ha confessato che anche lui avrebbe voluto parlare dello stesso argomento piuttosto che di programmi improbabili che chissà quando saranno realizzati e chi li vedrà ha detto sarebbe meglio soffermarsi sulla grave situazione della sanità in questo momento. Richiesta ribadita anche da Carlo Guccione per il quale non è una questione secondaria che questo Consiglio regionale si sintonizzi con la forte esigenza non solo di discutere ma anche di conoscere gli atti concreti con i quali si sta cercando di fronteggiare la grave crisi sanitaria che sta colpendo la Calabria. Non parteciperò ad una seduta del Consiglio regionale sulla sanità ha aggiunto Guccione senza la presenza del commissario Guido Longo e del direttore generale del dipartimento perché con il decreto Calabria 2 tutte le responsabilità sono andate in capo al commissario. La situazione della sanità calabrese la conoscete meglio di me e voi ha replicato il presidente facente funzioni Nino Spirli lo sapete da tanto tempo il quadro di oggi è figlio di ieri e dell'altro ieri. Rivolgendosi ai consiglieri di minoranza Spirli ha detto dove eravate quando si chiudevano gli ospedali e si riducevano i posti letto. Ne è seguita una veloce disamina sulle iniziative intraprese con le sollecitazioni rivolte al generale Figliuolo e a Roma per apertura di nuovi centri vaccinali, nuove terapie intensive e una attenzione particolare sulla provincia di Cosenza.